Era stato annunciato e adesso sarà attivo. L'amministrazione comunale di Mascali ha attivato una Wi-Fi Zone a Piazza Duomo e nella piazzetta turistica di Fondachello. I cittadini potranno avere così l'accesso a internet senza fili, dal proprio computer, tablet o smartphone, digitando soltanto una login e una password. La Commissione straordinaria, spiega in una nota, ha voluto offrire questo servizio alla cittadinanza perché l'implementazione di Wi-Fi nei luoghi di maggiore aggregazione semplifica l'accesso al sito web del Comune e ai servizi offerti. Contribuisce inoltre a rivitalizzare e incentivare la promozione del territorio con un conseguente aumento della frequentazione, sia turistica che lavorativa. Il servizio consentirà di navigare su internet per 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno e prevede livelli di protezione contro eventuali minacce informatiche e necessarie cautele, quali ad esempio l'amministrazione centralizzata degli utenti, resa possibile da un sistema integrato di autenticazione. Ci sono però delle regole. Ogni utente avrà a disposizione una connessione internet wireless secondo alcuni criteri che sono dopo 10 minuti di inattività la sessione di navigazione sarà interrotta, dopo 60 minuti di attività continuativa l'utenza sarà disconnessa per consentire a tutti la fruizione del servizio, evitando fenomeni di accaparramento della banda. Dopo 6 mesi di inattività l'account autenticato sarà disattivato e rimosso dal sistema. Grazie a tutti.